bella per chi trova l'impianto aiutare il canale di granona stiamo tornando oggi con un nuovo episodio del rotto di chumwan e come potete vedere la squadra ha subito i cambiamenti a causa del rosso preso da parte sua e ci ha piccato la partita perché lui non è... che stai a fa? e... ops! per dire che lo fa sta fermo? no, voglio dire formazione quindi niente, le costi anni abbiamo messo qua che tra l'altro abbiamo scoperto che è un fenomeno, cioè veramente un fenomeno e andiamo un po' subito probabilmente adesso giocherà sempre un po' su le gail esattamente vediamo come va ste partite si lui perchè non è buono a fare scivolate via... i rossi, gialli, così a buffo prossimo apprezzario l'MFC, Premier, Voluntation 80, Intesa 100 Premier c'è la gazzetta va beh, basta la liganza allora, noi siamo ancora benati per la partita di prima e l'aggianti ago, l'era avevo come fenomeno mmm Bam, ho rimessa lunga bam, quello di testa non va ovviamente è vino, sul testo dai 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 porco dai dai eeeh da da, dai dai ma io ole che poi io l'ho messa sul paletto all'angolino e invece lui attirava una fucilata totale adesso che bello in soddisfazione no male, non male ma dicevo, non capisco che fa fatemi di risposta vabbè, in soddisfazione addirittura non lo trovo eh, ti andava un portare a me eh, lo so, però, meglio di niente sti cazzi o l'ho fermato da Glyph no, per entrare quello posso via perché mi avvicini mai perché no, perché cazzo ogni volta avvicini il centrale difensivo che cazzo avvicina qua ma io mi tira perché hai tirato a giro? perché è il mancino non c'è la miseria oh, devi dritto per dritto e fai gol ma è, non hai capito questa mattina col mancino non posso dire dritto per dritto tipo piano scusa, ma ragiona se tiri col mancino e tiri in precisione è ancora peggio di tirate forte, no? ma no, perché svirgola proprio il sinistro io ho tirato pianissimo a giro pensando che magari ha metto con un angolino basso invece no eh, perché non pie rossi così? no, non è rosso perché ho preso eh, ma pure schiavo di pie rosso cioè eh, eh, ho preso palla ma anche fallo non hai capito non so perché l'ha fischiato non hai capito se te sbagli poco poco pii rosso eh, come prima cosa ecco, lo lanciato ma come? no, non mi ho sbagliato non volevo fallo non hai capito non volevo fallo perché era ammonito non me l'era accorto grazie 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 ma mai vedi le tattiche le tattiche però mi non pare che ha messo pausa olè esultano è bello quando vinci l'intelligenza ma che cazzo se non mangi un gomma che cazzo ora posso avvicinarti stai con quadrato eh, mamma, madonna farciato dai rossi pure cioè questa è che l'occasione da gol le famo il cucchiaio spero che tiro io guarda le famo il cucchiaio spero che tiro io le famo il cucchiaio fai il cucchiaio cazzo non lo so come io guarda guarda che tu ti sei riconnesso perché di tanto che io non si racconta ma che ha legato no, no si, si è stata la pericolica fai una cosa in tutti è una parola su angolo si bagga tutto il nato dal fatto di tutti i freddi al centro walker c'è anche dalla o finita sei muto meno male che ti ho data che falle oh vabbè che sta jean sono nonexiv un partire ma che pavana la squadra del pezzolio aprima gli黑 eh eccoci qua con la seconda partita tsunami fc mi tu tutu tu 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 ben n e bene 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 , bene d la paura formal vidal ma inserì voi eccesso si si, ho visto marcello torgione il caigliari perchè non c'è una cucchia lì, c'è ma rinforzato no vabbè cazzatico i rimpalli 40 rimpalli in difesa qui sono proprio fatto da solito ricordi da solito messica maia delle armadrid mamma mia che visione horrida dai che lo fai dai 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 mamma mia subito pareggio dai anche io ho orgoglio degli vecchi dalle ammitoria proprio quant'è questa volta di possente e poi mi guardi la merda no perchè mi guardi la merda non che dà la merda ma non ci dà mancana ma non dovrebbe da poco da partire vabbè meglio io in avolo trovavo questo vabbè per cazzo vabbè e niente abbiamo scherzato aria ecrice boom tutta la bundes si tranne quelle più di due forti ma perchè non perchè nessuno scivola la se non scivolava d'avogosato ma stai in vantaggio comunque c'è già la rigosato di tuo oh metti in mezzo sto se se mamma mia che belli sti corti in quei volte ho scoperto sto cross ma fa troppi colle così se non perchè non avendo l'uomo alto il mondo questo mamma mia mamma mia mamma mia mamma a colazione vai 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 olè 4 a 0 ma ho fatto il fancy shot perchè s'era alzata la palla vaffanculo hai detto che sul 3 0 posso fare quindi cercare di dammi palla a quadrato l'unico l'unico cosa fa dai o no e se ne va no e se ne va e questo episodio finisce anche questo in bellezza con due vittorie stavo ovviamente quella ragazzo ragazzi 10 punti già ci siamo salvati per raggiungere la terza divisione oh oh e retrocediamo di nuovo dai io ho una passata ma sento perchè stanno cominciando a giocare abbiamo capito come si gioca vabbè ci vediamo al prossimo episodio bella ciao ciao